Sentiamo parlare di MES, caro prof. Allora, vi lasciate in sospeso la spiegazione, vai, cerchiamo di capire bene. Allora, il fondo, il fondo salva stati, è un fondo che si aziona quando un paese entra in difficoltà, ossia va, prende una china tale che, voglio dire, si prospette il default. Allora, entra questo fondo, ma questo fondo è chiaro che non è che ti prestano i soldi gratuitamente. Tu, paese che va in difficoltà, devi stipulare una sorta di atto di resa, un armistizio. E all'interno di quelle condizioni, soltanto se tu adempi a quelle condizioni, ecco perché si dice c'è un diminuzio della sovranità, c'è un rischio di sovranità, soltanto se accetti quelle condizioni ti vengono dati i soldi. Ma qual è il discorso generale? Che l'alta finanza si regge soprattutto finanziando il debito pubblico dei grandi stati. Allora, qual è il rischio dell'alta finanza? Cioè, qual è il rischio delle banche? Che finanziando il debito pubblico del Portogallo, se il Portogallo dovesse andare in default, loro perdono tutto. Perché? Perché chiaramente se non è in grado di poter, allora creare un meccanismo, perché loro ti danno i soldi, ma te li danno perché tu comunque, la prima cosa che devi fare è rimborsare le banche che ti hanno pagato il debito. Non so se su questo è chiaro. Cioè, le banche pagano il tuo debito pubblico, ricevono degli interessi mostruosi su questo. Perché ricevono degli interessi mostruosi? Perché tu sei un paese che è ad alto rischio. Più è alto il rischio e più gli interessi si alzano e più ci guadagnano le banche. Perché il Presidente del Consiglio dice che non vede rischi? Cioè, cerchiamo di capire perché allora c'è chi, tutti quelli del PD per esempio, no? C'è gente che anche si stima, voglio dire, però come mai si schierano così compatti? Per l'Italia i rischi sai perché non ci sono? Perché l'Italia, se crolla l'Italia, o l'Italia, o la Germania, o la Francia crolla l'Europa. Crolla l'Europa. E l'Italia poi non corre grandi rischi perché gran parte del debito pubblico italiano non è finanziato dalle banche tedesche e francesi, ma è finanziato dagli italiani. Dal popolo, sì, sì. Dal popolo italiano. Il 60-70 ce l'hanno rimando. Ma questa è un'operazione che viene fatta soprattutto a favore delle banche teutoniche che sono a garanzia, cioè loro prestano soldi e ricevono interessi altissimi su una marea di paesi dell'arco mediterraneo, della parte balcanica. E' chiaro che se falliscono questi paesi debbono creare una rete di protezione. E questa rete di protezione però è una rete di protezione non gratuita. Cioè chi tesse quella rete, il ragno che tesse quella rete, poi ti si mangia. Perché tu per ottenere quei soldi ed evitare il default, che cosa fai? Sottoscrivi un ammestizio con quella gente che ti dà i soldi, cioè con quel fondo. Con l'Europa tu sottoscrivi un armistizio, un atto di resa. Senti, ma come è successo in Grecia? Ecco, però bisogna tornare a livello concettuale. Perché il fondo salva stati è una cosa dal punto di vista concettuale che non va bene? Perché tu invogli lo Stato che già sta in difficoltà a dire ma tanto c'è il fondo per cui io la mia irresponsabilità la protraggo ai massimi livelli per cui politiche populiste, sfascio dei conti pubblici, no. Perché tanto c'è il fondo, ma il fondo non è gratis. Il fondo deve andare a proteggere gli interessi delle banche che hanno fidanziato quel debito pubblico fallimentare. Per cui per non perdere tutti quei soldi entra il fondo ma quando entra il fondo tu sottoscrivi come paese una declaratoria di punti nella quale c'è rifondere tutte le banche che hanno prestato i soldi e uno, due, austeriti ai massimi livelli e tre, ti vendi tutti gli asset finanziari, portuali, fluviali e tutto quello che c'hai. Fai un piano di ridientro di vent'anni, fai, capito? Strozzi la gente, prelevi i soldi sui conti correnti per il 6, 7, 10, 15 per mille. Un disastro. Un disastro. Allora, scusa prof, non ce la raccontano tutta. Allora, quando si prendono queste decisioni, perché in Europa la politica non esiste, la politica in Europa, cioè le decisioni le prendono i capi di Stato o i paesi che hanno capo di Stato e presidente dell'esecutivo è demandato, a questo compie il presidente dell'esecutivo, però lo deve fare dietro un mandato che è quello del Parlamento. Qui c'era una risoluzione del Parlamento che diceva fermo, non dare, voglio dire, non andare avanti senza aver sentito il Parlamento. Sembra che siano andati avanti. Eh, ho capito, è questo che contestano al presidente del Consiglio. che il presidente del Consiglio si sia in qualche misura faccia il maggiordomo del, ma questo purtroppo, le poltrone, bisogna viverle con dignità e per viverle con dignità, questo adesso al di là del presidente del Consiglio, dico in termini generali, quando si ricopre un incarico sono due le cose che tu puoi fare, che devi fare, cioè quelle non sono, a mio giudizio, la corruzione, tutti i fatti secondari. Sono due cose. Tu non ti devi vendere perché si può essere rispettosi al massimo della corruzione, ma se tu ti vendi, vendere che significa che se tu assecondi una delibera che dal punto di vista della legittimità è perfetta, ma sfascia quell'azienda, e tu non stai facendo il tuo dovere in quel Consiglio d'amministrazione. E la dignità, la dignità è quando tu voti qualcosa in cui credi e non qualcosa che va a vantaggio esclusivamente dei tuoi interessi. Per cui non ti devi vendere e devi mantenere alta la dignità. Poi, se vuoi essere perfetto, devi fare anche altre cose. Però su questi due punti, tu non devi mai derogare, mai, perché se no fai altri interessi e sei pure pericoloso. Questo non è riferito a Conte, dico in termini generali, perché io non conosco neanche le carte, non le ho viste, per cui qui c'è una parte che dice una cosa, una parte ne dice un'altra, probabilmente tra di loro sanno qual è la verità, anche se c'è una risoluzione parlamentare che ti dice che tu prima di andare a trattare devi sentire il Parlamento, invece tu hai già trattato e dato la tua parola, lo puoi fare perché lì decidono i capi di Stato o comunque i presidenti degli esecutivi, per cui tu hai bypassato l'organo sovrano del Paese, quello è legittimamente eletto dal popolo. E questo, se fosse successo, non si fa. Non si fa, è un atto per il quale si chiedono le dimissioni. Vabbè, insomma, comunque, 06 88 33 033 88 33 040, ripeto, 88 33 033 88 33 040. Se volete, il professor Michetti è con voi, sto leggendo, durante lo scorso governo, l'allora ministro delle politiche comunitarie Paolo Savona inviò a tutti i ministri, ai commissari europei e ai vertici della BCE, un documento nel quale analizzava, tra le altre cose, il funzionamento del MES e il giudizio non fu propriamente positivo. La proposta in discussione di creare un fondo europeo per gli interventi, comunque lo si chiami, era scritto, oltre a disporre di risorse insufficienti, ha il duplice difetto di riproporre la parametrizzazione degli interventi invece di valutare, caso per caso, secondo una visione di politica comune. Comunque, insomma, era... Quindi c'erano quelli che dicevano fermi, calmi, non si procede. Ma per noi è ininfluente, perché noi siamo una delle tre economie che tiene in piedi l'Europa, per cui, voglio dire, se crolliamo noi, alla fine, dopo tutto, crolla l'Europa, non è che... Il problema è per gli altri paesi e il problema è soprattutto per le banche che finanziano quei debiti pubblici. E quindi è chiaro che le paragatute per la banca, non è per lo Stato. Per lo Stato a quel punto diventa uno Stato servente, un'economia servente rispetto a un'economia dominante. E l'economia dominante è quella teotonica, perché voi andate a vedere i fondamentali della Germania. Guardate il debito pubblico tedesco, guardate, voglio dire, quello che agevola la politica economica tedesca, l'inflazione a zero. Cioè tutto ciò che riguarda l'euro è stato fatto ad immagine e somiglianza del Marco. E questo vale più di una guerra, di una... La Seconda Guerra Mondiale era stata creata, fatta da Hitler, per conquistare l'area balcanica che doveva essere un'economia a servizio della grande Germania. E poi anche parte dell'area mediterranea doveva svolgere questo compito. Adesso si è creata una diarchia, un comando a due. Francia e Germania, ma la Francia soffre, perché non ha quei fondamentali dell'economia. La Francia cerca di andare appresso alla Germania, ma non ce la fa dal... I tedeschi, una volta che si sono... Andreotti che diceva sui tedeschi? Li amo talmente tanto che la Germania... Che ne voglio sempre due. Ma perché? Perché quando la Germania Unita hanno fatto immediatamente un'asse con altri 16 paesi. A quel punto tu sei sempre minoranza in Europa. La politica finanziaria, nel momento in cui Mitterrand e Cole decisero, voglio dire, insieme, perché Mitterrand favorì, disse di sì alla riunificazione della Germania, soltanto qualora la Germania non costituisse più una minaccia per la Francia. E qual era l'elemento? Creare una politica finanziaria comune. L'Unione Europea, l'Euro, che rinunciasse al marco. Però poi i tedeschi pretesero che il marco fosse a immagine e somiglianza della loro economia. Ma il marco era totalmente antitetico ai fondamentali dell'economia italiana. Noi lavoravamo sull'inflazione. A noi ci togli l'inflazione e ci ammazzi. Puoi immaginare il potere contrattuale che si ha sui salari. Tu facevi salire l'inflazione e abbassavi le pretese dei salariati. E le contrattazioni le facevi quando dicevi tu. Avevi bisogno di fare un'opera pubblica. Stampavi monete e facevi l'opera pubblica. Che dovevi aspettare? Quindi era un altro modo di intendere. Eravamo molto più dinamici. Potevamo far fronte alle calamità naturali. Stampavamo moneta. Creiamo inflazione. Si calava il potere d'acquisto dei salari. I nostri prodotti alzandosi l'inflazione aumentavano di competitività sul mercato nazionale. Erano più accessibili. Più accessibili sul mercato internazionale. Non avevamo per tanto bisogno di dazi e di dogane o di limiti che ci vengono imposti dall'Europa perfino sulla misura delle congole. È chiaro, no? Allora, scusami. Fabrizio, Marcello, Andrea, Angelo abbiamo un po' di ascoltatori. Andiamo veloci così diamo spazio a tutti. Botta risposta col prof Michetti. Fabrizio, pronto? Sì, pronto. Allora, intanto un ringraziamento mi senta direttore Ilario Di Giovanni Battista. Lei è un grande e anche il professore. Io vi prego solamente io posso essere stato un addetto ai lavori un po' di tempo fa molto tempo fa. Vi prego solamente di parlare professore un po' più terra terra in modo tale che lei abbracci molto più persone. L'ha spiegato benissimo. Io faccio solo due appunti e due domande dirette al professore ringraziando della vostra ospitalità. Allora, per questo MES valgono le stesse regole che valgono in Europa. In pratica siamo di fronte alla definitiva sottrazione della democrazia liberale. In pratica un paese non ha né il diritto né la libertà di scegliere come intervenire sul proprio debito pubblico. Ricordiamoci che il MES debba essere un trattato internazionale non un veicolo finanziario. Allora, professore io vorrei che lei spiegasse alle persone che ci ascoltano che la BCE è in mano a dei privati che non sono stati eletti dal popolo europeo e quindi lei pensa forse che faranno gli affari e gli interessi di noi poveri mortali? E un'ultima domanda vorrei che partecipasse anche il direttore di Gioan Battista che è bravissimo. Allora, io chiedo una cosa se lei ha fatto Tana in questa maniera se, che ne so un Salvini o un Meloni hanno tirato fuori il problema ma il signor Gentiloni responsabile e tutti i nostri italiani in Europa chiedetevelo italiani che gioco stanno facendo lo chiedo grazie Prof Allora, lei innanzitutto è persona competente perché dice di... Lei ha capito tutto perfettamente nel senso noi abbiamo già dei limiti nel momento in cui facciamo la nostra politica di bilancio nel momento in cui il nostro Stato o un altro Stato dell'Unione dovesse andare in default non ha più alcun tipo di sovranità questo è pacifico e si stanno creando tutti questi strumenti per poter garantire voglio dire una effettività di questo tipo senza che voglio dire la politica possa incidere più sulle scelte economiche dei singoli paesi aggiungerei come dice giustamente che ormai la burocrazia non risponde più alla politica ma risponde all'economia ecco perché dice giustamente la BCE chi è la BCE ma qui dovremmo fare una puntata soltanto sulla BCE Andiamo avanti dai vai Allora andiamo al prossimo è Marcello in linea pronto? Eccomi pronto allora professore io non sono d'accordo perché bisogna dare la giusta informazione secondo me almeno io ho cercato di seguire il MEP intanto esiste non adesso ma esiste dal 2011 ed è stato creato un organismo quando noi facciamo parte di un condominio che è l'Europa e quindi è già stato deciso prima la prima cosa la seconda cosa non credo che ci siano dei privati a BCE fino all'altro mese noi avevamo a Mario Draghi è fortuna che c'è stato lui che è salvaguardato non solo l'Euro ma anche l'Italia io quello che ho capito è che al di là che non abbiamo rischi noi come Italia perché il nostro debito come lei spiegava fortunatamente è sostenibile l'unica cosa che Gualtieri oggi e domani l'undici oggi domani l'undici deve contrattare è che non ci siano dei grossi interessi se i nostri buoni di Stato e l'unica cosa è quella perché allora si crea a mio modo di vedere un allarmismo perché è sempre la politica che decide perché sono i ministri della Repubblica dove decide i capi di Stato e il Presidente Conte a prescindere dall'attacco personale che gli è stato fatto ma ha spiegato in maniera molto diciamo decifrata con una serie di documenti tutti i passaggi e tutte le informazioni che il Parlamento e il Consiglio del Ministro hanno avuto in questo periodo quindi mi sembra un pochettino presuntuosa l'affermare che noi corriamo dei rischi e che che corriamo dei rischi soprattutto per i nostri conti pubblici quindi tutto bene mi pare allora io ho detto che l'Italia non corre rischi ho detto esattamente il contrario no la ricostruzione non è proprio così il fondo nasce nel momento in cui noi nel 2008 registriamo una crisi che nasce dalle banche poi si protrae in Europa qualche anno dopo e nel 2010 riusciamo a capire a comprendere attraverso attività di istruttoria che si fa all'interno delle banche soprattutto quelle italiane all'inizio pensando che fossimo noi quelli un pochino più deficitari invece scopriamo che le nostre banche erano quelle più oculate quelle che avevano gestito meglio il credito e invece vediamo delle voraggini soprattutto dove voglio dire i crediti si erano incagliati in ragione di accesso molto semplice molto facilitato ai derivati da parte delle banche tedesche per cui le grandi banche tedesche vanno in difficoltà per cui il fondo viene creato soprattutto perché quegli stati che possono fallire e c'era la questione della Grecia quegli stati che possono fallire mettono in difficoltà possono far crollare le banche soprattutto tedesche e francesi che finanziano quel debito ecco perché nasce il fondo non ci sono altre ragioni tant'è che nella discussione poi è sparito addirittura il fondo poteva rifondere prioritariamente direttamente le banche prima che gli stati andiamo avanti ancora due ascoltatori dobbiamo essere veloci Andrea uno uno Andrea pronto pronto buonasera a tutti una cortesia vorrei che lei mi spiegasse nei fondamentali del calcolo della situazione economica di una nazione perché non si usa non si usa mai il parametro del diciamo credito privato ossia l'ammontare del risparmio giacente diciamo nei gruppi bancari che è fornito da quello che praticamente a un cittadino cioè quello che stanno per aggredire qui in Italia se io vado a calcolare sempre solo il debito pubblico ma non vado a calcolare il credito privato saremo sempre noi deficitari quando noi sappiamo benissimo le banche tedesche francesi e di altri stati europei hanno grosse sofferenze dovute all'esposizione debitoria del cittadino esatto buonasera grazie è un'affermazione la condivido perfettamente la condivido perfettamente perché noi abbiamo delle banche che voglio dire è chiaro che nei periodi di particolare crisi le banche hanno una sofferenza che deriva purtroppo da quella che è la realtà del mercato però molto spesso fanno anche attività di natura spregiudicata molto spesso vanno diciamo oltre il loro limite le banche italiane sono tra quelle diciamo all'interno dell'Europa comunitaria quelle più oculate quelle che prima di darti i soldi ci pensano una volta ma cento per cui si sono trovate meno coinvolte in quella che era la grande crisi del 2008 che poi in Italia è arrivata nel 2009 2010 2011 bene allora prof e niente secondo te come va a finire perché dacci una sorta di previsione noi non abbiamo in Europa un grande credito perché perché in questo momento per credito intendo un potere di incidenza sulle politiche che fa l'Europa quindi andrà come hanno deciso andrà come hanno deciso in Europa si sta confermando una diarchia Francia-Germania ma la Germania sta staccando la Francia la Francia verrà riassorbita dall'area meridierranea mentre la blocco forte è la Germania e gli altri 16 paesi e guardate che l'economia olandese sono sempre loro per me dovevano essere sotto mazzola per sempre per tutto quello che hanno combinato cioè noi abbiamo riconsentito che la Germania ridiventasse più forte di prima siamo veramente dei fenomeni dopo quello che hanno fatto i tedeschi ancora parlano veramente guarda che cioè ragazzi su dai l'economia olandese ha lo stesso surplus dell'economia tedesca ormai le grandi aziende vanno tutti a stabilire o la sede legale o il centro degli affari ad Amsterdam a Malaya a Rotterdam cioè questo dovrebbe far comprendere qualcosa e soprattutto adesso che non ci sarà più la siti londinese vedrete che tutto si trasferirà tra Francoforte l'asse tra Francoforte ed Amsterdam quindi qui abbiamo bisogno di una politica forte noi dovremmo essere quelli che gestiscono l'area mediterranea noi abbiamo la seconda economia d'Europa comunque voglio dire la Francia perché c'ha un potere energetico superiore al nostro ci hanno le centrali nucleari noi abbiamo fatto delle politiche che ci hanno ucciso ma noi effettivamente potremmo i nostri fondamentali se avessimo un governo di qualità e non dico questo l'attuale quello di prima quello di prima ancora sono 30 anni che non abbiamo più un governo di grande qualità con un governo di grande qualità in 5 anni abbiamo gli stessi numeri della Germania di grande qualità